Mille iscritti in due anni. Madonna. È una soffrenza perché è qualcosa che ti piace. È tipo un figlio YouTube, no? Almeno dal mio punto di vista. Lo stiamo facendo crescere, lo stiamo coltivando, però non ti dà abbastanza soddisfazione adesso. Almeno in questo periodo la sto vivendo così. È un po' frustrante la cosa. Sì, che poi voglio dire, c'è gente che per delle puttanate virali, perché diventano virali, riescono a fare centomila iscritti in quanto? Due mesi? Sì, è vero. Noi stiamo cercando di portare contenuti, non vuole essere uno sfogo questo. Stiamo cercando di portare contenuti, qualcosa di valido, senza sfociare troppo nel trash. Ma purtroppo c'è quel qualcosa che ti ferma, qualcosa che ti limita. Sarà YouTube, sarà magari che anche noi non interessiamo, ma non è di questo che vogliamo parlare in questo video. In questo video vogliamo far capire che noi, ai due anni, siamo anche interrotti, per l'amor di Dio, che stiamo cercando di crescere su YouTube. Perché? Perché ci piace, innanzitutto. Sì, perché vorremmo che diventasse il nostro lavoro. Esatto, per far sfociare l'attività youtubica in un futuro lavoro. Ovviamente non facendo solo questo, ma facendo anche altro. Sì, sì. Se in due anni noi non abbiamo smesso di credere in questo progetto, vogliamo ispirarvi a non smettere di credere in voi stessi. Io continuerò sempre a credere in questo progetto, come continuerò a credere in altri progetti, in altre cose. Voglio dimagrire. Non mi fermo che dopo un mese, dopo tre mesi non riesco a avere risultati. Ma infatti è proprio questo, se non ci credi e non arrivi fino in fondo, come fai a dire non funziona? Anche la vita. Devi provarlo, io non lo so che domani ci svegliamo e abbiamo duemila iscritti, io non lo so. In qualsiasi cosa, nella vita bisogna mai mollare, avere sostanza e determinazione, avere tanta fortuna, perché chi ha fortuna ovviamente arriva prima il risultato, ma non mollate ragazzi. Ed essere raccomandato. Essere raccomandato è funzionabile. Ah beh, quello sì. Però anche lì, se sei raccomandato, ma non hai determinazione, non hai sostanza, non fai nulla. Esatto. Fai e rimani lì. Però non cresci. No, infatti. L'obiettivo è la crescita, è quello che ti stimola ad andare sempre avanti in qualsiasi cosa, anche in palestra, ti alleni al bicipite. Grosso, lo vedi grosso, ti fermi. No, vai avanti perché vuoi sempre migliorare, se no che cazzo di... dove sta il gioco? Esatto. No, 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 c'è ragione. Noi vi promettiamo che se anche non cresceremo, questa cosa di YouTube a noi ci dà comunque una buona sensazione. Assolutamente. È un buon rapporto che abbiamo con YouTube, sia da utente, normale che guarda video, sia da creatore. Quindi noi non demordiamo, non ci demotiviamo, anche se sicuramente ci sono dei momenti down, dei momenti up. E continueremo a portarvi dei nuovi video. Quindi è anche un pretesto per chiedervi che cosa vorreste... Che cazzo volete vedere? Che cosa volete vedere? Perché di robe da fare volendo ce ne sono tante. Ovvio, non vogliamo trasformare il nostro canale da un canale di attività estreme, per l'amor di Dio. Però se qualcuno volesse vedere qualcosina un pochino più sulla vita del palestrato inerente al fitness e anche non, che cazzo ne so, gaming, auto, qualcosina così, è per dire. Cioè, si potrebbe pensare di fare qualcosa, senza andare a sfociare troppo in il campo che non è il nostro. Niente. È un po' che non cosa mi parla. È un po' che sì, ma che cazzo è? Vabbè ragazzi, questo è tutto per dire di non arrendersi mai e di guardare il vostro obiettivo, essere motivati. È stato tutto, eh. Buone vacanze. Ah giusto, buone vacanze. Buona suddata in campagna. A presto. Buone vacanze. Buone vacanze. Buone vacanze. Buone vacanze. Buone vacanze. Grazie a tutti.